Sospiri, si parla ancora di questo declassamento degli ospedali regionali, di alcuni ospedali cosiddetti minori, parliamo del pescarese, parliamo dei nosocomi di penne e di popoli. Purtroppo siamo costretti a riparlarne perché ieri la Regione ha siglato i documenti rinviati al Ministero della Salute con cui viene ufficializzata la riorganizzazione dei pronto soccorsi della rete dell'emergenza e urgenza. Accadrà che il pronto soccorso, nello specifico del pescarese, di penne e popoli seguiranno questa riorganizzazione. Popoli chiuso definitivamente dal 1 luglio, penne declassato, pronto soccorso di ospedale svantaggiato che farà fino forse ai codici gialli e quando arriverà qualcuno purtroppo con una patologia molto seria stabilizzato e portato a Pescara. C'è un'attività contro le aree interne, questo è evidente, per accentrare tutto all'esplosione dei pronto soccorso dei capoluoghi di Chieti e Pescara, magari perché si vuole giustificare la volontà di fare per forza un nuovo ospedale. Faremo di tutto per denunciare questo problema, per informare la gente che siamo certi si ribellerà e farà rimangiare questa folle scelta. Problemi febbo anche ci potrebbero essere per gli ospedali della provincia di Chieti, parliamo di Guardia Grele, di Ortona e di Atessa. Cosa accadrà secondo voi? Cosa potrebbe accadere? Ieri hanno sottoscritto questo documento che ancora abbiamo ma che avremo, dove si certifica la chiusura di tre pronto soccorso, che è una cosa indegna per una provincia e per una regione nelle condizioni geografiche che abbiamo noi. Soprattutto è una cosa indegna, in un momento in cui si sta parlando di realizzare un nuovo ospedale che non ha i piedi per camminare, dove non ci sono risorse economiche, dove ci sono mille altri problemi e non si danno servizi ai cittadini. Sguarnire territori interni come quello di Guardia Grele, come quello di Atessa, del pronto soccorso, lasciando tutto il territorio montano senza alcun punto di riferimento, chiudere definitivamente Ortona per continuare a ingolfare i Chieti, per giustificare l'ingiustificabile, credo che è veramente qualcosa che grida vendetta.